Firmato oggi il protocollo d'intesa per attrarre talenti stranieri nelle università milanesi, che impegna Camera di Commercio, Università degli Studi di Milano, Università Bocconi e Politecnico in un percorso comune, con quali obiettivi? Creare delle condizioni più favorevoli agli studenti e ai docenti stranieri che sono interessati a venire a Milano, cioè quello di valorizzare Milano come una grande città universitaria, come un luogo dove si formano i talenti, un luogo dove i talenti interagiscono con la città e col territorio. Sono oltre 200.000 gli studenti in città e oltre 11.700 studenti e docenti stranieri nelle tre università che aderiscono all'intesa. Un capitale umano prezioso per un tessuto economico che fa della conoscenza fattore strategico di sviluppo. Il protocollo, aperto agli altri Atenei, propone un nuovo approccio all'insegna della sinergia tra istituzioni per valorizzare queste risorse. È un accordo che ha una valenza importante perché riconosce da un lato il ruolo dell'università come soggetti capaci di attirare giovani di qualità da tutto il mondo e dall'altro rappresenta un primo passo verso forme di collaborazione fra Atenei e istituzioni milanesi come la Camera di Commercio. Il sistema universitario senza un rapporto importante con il tessuto di contesto rischia, quello che probabilmente è successo in questi anni, cioè una sorta di autoreferenzialità eccessiva e credo d'altra parte che il sistema delle imprese, in realtà probabilmente tutto il tessuto sociale e produttivo, possano guadagnare nello scambio e nel colloquio col mondo universitario. Ma quali sono le principali esigenze da affrontare? C'è un tema di accoglienza iniziale, di avere una città che ti aiuta ad avere il visto, gli strumenti all'ingresso, all'apertura di un conto corrente, quindi le attività amministrative e burocratiche che però fatte da un cittadino di un altro continente possono essere difficili. A una città che ti dia dei servizi di qualità, che ti faccia accedere alle sue bellezze, e Milano ha tante bellezze nascoste, contrariamente ad altre città, a una città che renda anche il sistema in grado di accogliere i nostri studenti nelle attività professionali. Il protocollo offre già tre strumenti, operativi a partire dal prossimo anno accademico. Milano ID, una card per studenti stranieri che prevede facilitazioni nell'accesso ai servizi cittadini, il progetto Faculty Family Facility, per agevolare l'inserimento dei familiari dei visiting professors, e infine una piattaforma internet con servizi e informazioni utili su opportunità di alloggio, convenzioni e iniziative dedicate a chi ha scelto Milano come destinazione universitaria.